Ciao amici e bentornati in un nuovo video. Oggi non vi propongo una ricetta, bensì facciamo un video for. Sono andata da Primark, un negozio che io adoro, ecco qua, e ho comprato, allora per me ho comprato due o tre cose, tutto il resto è per bambini, quindi se avete dei bambini questo è il video per voi. Cominciamo subito con la mia roba formale. Sono due cosette e la prima cosa che vi faccio vedere è questo pantaloncino che come sapete adesso è molto di moda perché ha questo volant così e questo è molto carino perché ha anche le tasche e questi che si allacciano davanti. Io ho preso una taglia, questa è una 42 e un tessuto di cotone un momentino pesante, non leggerissimo perché ne ho visti parecchi leggerissimi, però a me così non stanno bene e questo era quello che andava per me. Ed è molto carino, questo l'ho pagato sui 11 euro e è bellissimo, veramente veramente bello, a me piace veramente tanto, quindi se andate ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori e sicuramente troverete anche questo. Poi per abbinare a questo pantaloncino ho preso questa magliettina basica, proprio semplicissima, questa l'ho pagata 1,80 euro, questa è una taglia M e come vedete è quasi dello stesso colore. Quindi è molto semplice perché con questi pantaloncini serve una maglietta attillata, cioè sarebbe l'ideale, però di queste ne trovate di tantissimi colori. Ho preso due mutandine, queste venivano attaccate, venivano 3 euro, due mutandine completamente trasparenti, molto belle. Questa è questa, questa c'è la palla S e io ho preso la M e venivano 3 euro. E poi per finire io mi sono presa questi, queste scarpine che venivano 4 euro e adesso d'estate io adoro queste scarpine che sono semplicissime proprio per il fatto che sono completamente bianche, da mettere con un pantaloncino jeans o anche con un abitino, può essere jeans o può essere a fiori, quello che avete. Queste scarpine sono perfette perché sembrate molto molto giovani e mi dà un po' l'aria di anni 80. A me mi fa quell'idea lì e mi piacciono tantissimo. Questo qui è il numero 39, pagate 4 euro. Ho trovato la roba di bambini e ce n'è davvero tantissime cose. Ho trovato questo pantaloncino che io prendo le taglie più grandi, questo è 3-4 anni, perché sapete che i bambini la roba proprio subito cambia tanto. Allora ho preso questo pantaloncino, veniva sui 2,50 euro ed è bellissimo, questo rosso è proprio stupendo. Ho preso un altro pantaloncino blu, ecco quel prezzo a 2,50 euro, anzi lo vedete qua meglio, 2,50 euro. E anche questo, molto semplice, ok, poi ho preso da abbinare questi, ho preso questa magliettina che è carissima, questa l'ho pagata 2,50 euro, questa qua, ma è molto 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 carina. Poi questa qui veniva 1,75 euro, questa, ma guardate che bella, colore fantastico. Poi ho preso questa sempre 1,75 euro, anche questa è molto bella. Poi ho preso un'altra, ce n'era addirittura a 1,30 euro, però questa era la settimana prima, invece io quando sono andata erano già a 1,75 euro, però sono sempre a buon prezzo. Poi ho preso questo pacco di calzine, sempre per i bambini, portava 2,50 euro e come vedete hanno le stelline che sono tipo per antiscivolo per fermarlo e ce ne sono i ben 5 colori, tutto azzurro e bianco e anche grigio. Poi come scartine ho preso queste, visto che il bambino è a ruina in blu, queste venivano su 4 euro, 4 euro, ma guardate che carini questi, ma guardate, molto molto carine. c'erano in questo colore, c'era in rosso, c'era in verde e anche in grigio. Io ho preso questo colore, poi ho preso queste, che sono bellissime, sono dei sandaletti tipo squalo, infatti vedete qua lo squalo, e qui vedete tipo la bocca piena di sangue con i denti. Puoi giacquire il lastichino per agganciare il piedino, e queste venivano 2,50 euro, molto molto carine e originali questi sandaletti. E per i ragazzi la borsa è finita, preso veramente pochino cose, non sarà l'ultimo, penso andarci ancora quando vi sierano i saldi, vedere se c'è qualcos'altro carino. Spero vi sia piaciuto questo video, vi sia stato utile in qualche modo, se avete dei bambini, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!